Gentili telespettatori, buona giornata. E così Elislein è andata a Palermo nel quartiere Zen 2 per fare un po' di propaganda elettorale. Perché? Questa è la mia riflessione. Si è parlato di Caivano, Don Patriciello, le offese di De Luca, questo sacerdote perché la Meloni ha sistemato quella zona. Momentaneamente Caivano oggi è diversa da qualche tempo fa. L'unico governo che ha ascoltato questo sacerdote che si era rivolto ai governi di sinistra e non gli hanno mai risposto, si era rivolto a De Luca e De Luca, il Presidente della Regione, gli aveva risposto che lo Stato a Caivano non c'è, punto, stop. Dopo le offese di De Luca, questo sacerdote che lo ha definito il Pippo Baudo di Napoli con la frangetta, dalla Schlein a nessuna parola. Niente, silenzio. E guarda caso va a Palermo a dire che va in una zona disagiata, economicamente, socialmente, a dire che la Meloni vede cose che non esistono. Avete capito? Si parla in questi giorni del successo della Meloni a Caivano e di quello appunto che vi ho raccontato prima, allora lei va a Palermo a dimostrare, carta canta, che sì, avrà messo a posto Caivano, ma c'è tutto un altro mondo di problemi che nessuno risolve. Avete capito qual è il... Dice che qui a Palermo è impossibile garantirsi un presegniente dignitoso, Meloni ha perso il contatto con la realtà. Sembra un po' tipo Meloni ha perso il contatto col Tarapia Tapioca, come diceva nei film amici miei, ha perso il contatto con la realtà. Cosa c'entra? Allora, se a Palermo nel quartiere Zen 2 c'è una situazione di degrado, vuol dire che la Meloni ha perso il contatto con la realtà. Ma che vuol dire? No, chiedo, che vuol dire? Lei, la segretaria PD, fa visita a quattro famiglie che vivono nel quartiere nella periferia di Palermo e attacca al governo, deve vedere la sofferenza della gente. Ma che vuol dire? Va a casa di quattro famiglie e se la prende col governo deve vedere la sofferenza della gente. Mi sembra abbastanza qualunquista, come... Qualsiasi governo c'è o ci sarà anche il migliore del mondo, potrai sempre andare a casa di quattro famiglie e dire guarda queste povere persone hanno una situazione economica disastrosa, allora il governo non vede la realtà. È un modus operandi molto, 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 molto superficiale. Dice, la Meloni ha detto c'è lavoro, non so dove l'ha visto, forse a casa sua, ma non qui in Sicilia. Anche questo è superficialità terrificante. C'è lavoro. Ma cosa vuol dire c'è lavoro? Quando tu dici che i posti di lavoro aumentano, stai facendo un discorso nazionale. Ci sarà sempre qualcuno che perde il lavoro e qualcuno che gli va male. Questo è un discorso che di solito fanno un po' quelli un po' così. Nel dire, non so, la disoccupazione diminuisce, ma io ho perso il lavoro ieri. Sì, ma cosa c'entra che tu hai perso il lavoro ieri con un discorso nazionale dove aumentano i lavori? Ovviamente può esserci un'Italia dove aumentano i posti di lavoro, dove diminuisce la disoccupazione, aumentano i contratti a tempo indeterminato e tu vieni assunto con un contratto a termine. Dici, non è vero quello che dice la Meloni. A te è successo, ma si sta parlando di un qualcosa di nazionale. È questo che tanti non capiscono, compresa la KADEM, che non puoi prendere il discorso di una famiglia e proiettarlo a livello nazionale. Se in una famiglia hanno perso il lavoro vuol dire che l'economia italiana sta andando a gambe all'aria. Non c'entra niente, non c'entra nulla. È un discorso così molto, molto sempliciotto. C'è lavoro, dice la Meloni, non so dove l'ha visto. Intanto non è che lo dice la Meloni che c'è lavoro. Sono i dati Istat che dicono che ci sono mezzo milione o più di posti di lavoro creati nell'ultimo anno. Quindi non è che lo dice la Meloni dove l'ha visto forse a casa sua. Sono dei discorsi questi di un sempliciottismo che fa davvero impressione, perché vengono detti dal capo del secondo partito italiano e dal capo dell'opposizione al governo che ti va a visitare quattro famiglie e ti dice la Meloni dice che ma dove l'ha visto. È molto, molto, molto sempliciotto. Avrebbe dovuto dire sì, i dati nazionali sono in miglioramento, però c'è ancora tanto da fare quando riusciremo magari a garantire a tutte le famiglie di non essere in difficoltà, che è un'utopia. Dire che eliminiamo la povertà era tipo Di Maio dal balcone. Ecco, non esiste eliminare la povertà, non lo puoi fare, non esisterà mai in nessuna parte del paese una società dove non esiste una famiglia in difficoltà o non esiste dove uno ha perso il lavoro. È utopia, ma usarla come clava politica è deprimente. È deprimente. E poi dice, naturalmente si va a parare su sussidi, senza stipendio e senza sussidio, cioè non ho lo stipendio e lo Stato non mi mantiene. Però la storia che se non lavoro lo Stato mi deve mantenere era quella storia che raccontavano i grillini dove tu nasci in Italia, se lavori bene e se non lavori lo Stato ti passa una mensilità. Insomma, è stato fatto per qualche anno questo ma non funziona. Non funziona perché lo Stato non ha questi soldi per poter continuare a dare. Perché guardate che nel mondo lo fanno e ci sono paesi dove c'è un piccolo paese fortissimo nel petrolio, è un paese dove abitano 300.000 persone e il re, il sultano, quel cavolo che è, che ha delle entrate economiche dovute al petrolio ingenti, che cosa dice? Dice, dice, allora, ai miei sudditi passo 3.000 dollari al mese, indipendentemente che loro lavorino o non lavorino, stiano a casa sul divano, stiano in spiaggia, io gli passo questo. Poi loro fanno quello che hanno voglia. Quindi c'è chi mantiene il proprio popolo a prescindere che lavori o no, ma non può essere il caso dell'Italia che non ha soldi. Questo è il punto centrale. Ecco, dice una signora, ho la quinta elementare, non mi fanno lavorare, devo aspettare di compiere 60 anni per avere il minimo 350 euro. Però, cara signora, per esempio, che lei ha la quinta elementare non è colpa del governo. Se con le sue caratteristiche di studio a 60 anni non trova lavoro, non è colpa del governo. Devo aspettare 60 anni per il minimo di 350 euro? Sì, forse potrebbe essere un po' di più di 350 euro, dovrebbe essere almeno un minimo di 800 euro. Però parliamo di uno Stato che è al limite del fallimento. Quindi la Schlein è andata in giro per il quartiere Zen di Palermo a raccogliere le testimonianze che il governo Meloni non sta facendo niente perché c'è gente in difficoltà. È di una superficialità spaventosa. Spaventosa. Arrivederci a tutti e grazie. Grazie.